Buongiorno, buon sabato, bentrovati a questo ultimo appuntamento della settimana con la nostra rassegna stampa. Iniziamo subito come sempre dalle prime pagine regionali andando a guardare i titoli dei principali quotidiani abruzzesi. Il centro edizione di Pescara apre con la cronaca giudiziaria in particolare con Rigopiano imputato, aggredito la madre di Feniello contro Gian Caterino. L'udienza è stata rinviata, fra poco andremo a vedere anche il servizio di Stefano Recanati che ieri era per noi al Tribunale di Pescara. Andiamo avanti, nel taglio alto la politica nazionale, percorso comune Movimento 5 Stelle PD, cittadinanza, riparte l'iter, conterà il ciclo di studi, il cosiddetto use culture. Poi andiamo a vedere le altre notizie, sempre la politica esplode, il caso Fioretti in regione all'interno della Lega Bella Chioma chiede la testa dell'assessore. Andiamo a vedere perché la nomina in un organismo sovra regionale della compagna dell'assessore Piero Fioretti, decisa l'insaputa del segretario abruzzese della Lega Giuseppe Bella Chioma ha scatenato l'ira di quest'ultimo. Così alla vigilia del blitz di Matteo Salvini in Abruzzo, previsto per domani sera, scoppia una resa dei conti nel carroccio in cui a farne le spese potrebbe essere l'assessore Fioretti che ha concordato direttamente con Marsilio l'incarico per la compagna. Poi ancora per quanto riguarda la salute, malattie renali dal 2015 meno pazienti in dialisi, sono diminuiti di circa il 3%. Andiamo a vedere ancora la cronaca animatrice violentata in albergo nell'Alto Sangro, arrestato il capovillaggio, la giovane in ospedale, lui nega le accuse. Nello spazio delle cronache, Nuova Pescara, stop della Lega, troppi dubbi sulla fusione. Andiamo avanti nuove antenne, ripartono le contestazioni dei cittadini a Pescara e poi la protesta, sciopero globale per il clima, nel capoluogo adriatico hanno sfilato 4.000 ragazzi. Veniamo invece allo sport, alla partita di ieri sera all'Adriatico Cornacchia, fischi sui biancazzurri battuti in casa dopo quasi 8 mesi, figuraccia del Pescara, crollo inatteso contro il crotone degli ex ed è stato proprio un ex Benali con una doppietta a condannare il Pescara che alla fine è stato sconfitto per 3 a 0 con una rete nel finale al 42esimo. Poi andiamo nel taglio basso, Brumotti aggrediti a Rancitelli, le donne del Rione, basta telecamere, dateci lavoro e servizi, parla l'inviato di Striscia alla notizia che è stato oggetto di un'aggressione al ferro di cavallo nel quartiere Rancitelli di Pescara. Ci avete aggredito ma vi voglio bene, ha detto in un video sui social Brumotti. Poi il segretario di Stato statunitense Mike Pompeo sarà a ottobre in Abruzzo e visiterà a pacentro la casa dei bisnonni. Ci spostiamo sempre sul centro nell'edizione teatina, nel quotidiano d'Abruzzo, in apertura gli universitari invadono il centro. Chieti un successo, la notte dei ricercatori in 20 mila tornano sul colle. Poi andiamo a vedere nello spazio delle cronache, Rogo distrugge 7 auto, notte di paura nei palazzi di via Baroncini a Chieti, 7 automobili parcheggiate a ridosso dei palazzi sono andati in fiamme. Poi a Lanciano, schianto con l'Apecar, anziano muore dopo 7 giorni dall'incidente a Vasto, nuova tassa sulle imprese e il contributo agricolo. A centro pagina invece vediamo ancora i riflessi dello sciopero del Friday for Future. Maxi sciopero con il movimento di Greta, gli studenti sfilano a Lanciano e Vasto, difendiamo l'ambiente. Andiamo a vedere poi l'edizione teramana del quotidiano il centro, in apertura alla sanità, ospedale, la battaglia di Dalberto. Il sindaco di Teramo vuole un consiglio straordinario con l'Aquila. Anche qui a centro pagina ritroviamo lo sciopero per il clima, 2 mila giovani in piazza a Teramo gridano salvate il pianeta. Poi ancora a Silvi gli uffici comunali tornano nella sede storica conclusi i lavori di riqualificazione del palazzo municipale. A Giulianovo una mostra su Leonardo a cavallo del Natale, poi a Roseto un comitato deciderà la promozione turistica. Andiamo a vedere anche l'edizione aquilana del quotidiano il centro. Festival è colato, biondi sapeva. Spunta il documento e il programma per chiedere soldi al ministero. Poi andiamo a vedere nello spazio delle cronache ad Avezzano, incendio notturno devasta un ristorante a causa di un cortocircuito. Poi scuola stop ai buoni pasto per 200 furbetti, sempre ad Avezzano. Adriana Volpe sfida in tribunale e vittima di una truffa. A centro pagina anche qui la foto dello sciopero per il clima. Migliaia di ragazzi in corteo nelle città salvate il pianeta. Manifestazioni in tutta la provincia aquilana. Ora ci spostiamo sull'inserto abruzzo del messaggero. Andiamo a vedere la prima pagina. Ritorniamo sulla vicenda Rigopiano. Esplode la rabbia. L'ex sindaco Gian Caterino, aggredito dalla moglie di Feniello nel bar del tribunale. Era allegro, ma ha firmato la condanna a morte di mio figlio. L'ho preso a pugni. Questa è la confessione e il racconto della donna. Poi Brumotti e Arrancitelli, botte alla truppa, i picchiatori in un video. Video che sono girati sui social e che sono all'attenzione delle forze dell'ordine. Di spalla un'economia più etica. Ignazio Visco oggi sarà a Lanciano, il weekend dedicato a Marcello De Cecco sui temi della crescita. A centropagina la cronaca. Stupro in albergo su un'animatrice ragazzo arrestato. Il giovane indagato è collega della vittima. La procura ha chiesto il giudizio immediato. L'accusa è quella di violenza sessuale aggravata. Vedremo. Anche se l'uomo nega gli addebiti, gli inquirenti a tutela della vittima mantengono sulla vicenda un assoluto riservo. Poi nella fotonotizia all'Adriatico finisce 0 a 3 per il crotone, un delfino irriconoscibile. Pescara castigato dall'ex Benali, come abbiamo detto in precedenza. Anche questo servizio con le interviste lo vedremo poi nella seconda parte della nostra rassegna. Nel taglio basso di questa prima pagina l'Aquila ottiene un milione e si toglie la vita dopo 8 anni di battaglie legali. Era riuscito ad essere risarcito della somma di un milione di euro dal Ministero di Giustizia, ma è possibile che quel lungo calvario sanitario e psicologico lo abbia affiaccato nel corpo e nell'anima fino a portarlo alla tragica decisione. La Will della Polizia Penitenziaria si stringe assieme agli stessi avvocati aquilani al dolore della famiglia di Vincenzo Scimia, 52 anni, ex agente della Polizia Penitenziaria dell'Aquila, padre di tre figli, morto suicida due giorni fa a Campotosto. Poi ancora ad annunzio da Scania o derby per intitolare l'aeroporto. Nel taglio alto andiamo a vedere i richiami dalle pagine interne. Chieti, Rogo distrugge sette auto nella notte, giallo sulle cause, la visita Mike Pompeo a Pacentro nella casa dei Bisnonni e poi effetto Greta, così salveremo il pianeta. Migliaia di studenti in strada. Andiamo a vedere anche la città, il quotidiano della provincia di Teramo apre così, sanità, i project non risolvono i guai, assistenza territoriale, rete ospedaliera, assunzioni, spese fuori controllo, i problemi emersi al tavolo tecnico. Nel taglio alto sospeso il processo di Rigopiano, madre prende a pugni l'ex sindaco di Farindola, tra poco vedremo il servizio. Poi andiamo a vedere il centropagina con la fotonotizia, svelato un nuovo teatro romano, prime immagini del nuovo progetto coperto potrebbe essere quello definitivo. A Campi, accordo fatto, salvi posti di lavoro alla cave Canem, poi Giulia Nove, le inventari e non asilo al polo scolastico dell'ex tribunale ad Alba Adriatica, tassa turistica incassati 200 mila euro e poi Teramo Guarda, AAA cercasi 500 comparsi per il film su Ivan Graziani che girano ad Urbino. Prima di passare a vedere i titoli dei quotidiani nazionali andiamo a vedere, come detto, il servizio che ricapitola un po' la giornata di ieri al Tribunale di Pescara per quanto riguarda il processo Rigopiano. Si tornerà in aula il 25 ottobre alle 9.30, è stato rinviato la seconda udienza preliminare davanti al gruppo Sarandrea perché Massimiliano Giancaterino, ex sindaco di Farindola, che questa mattina era presente in aula, nell'intervallo, nella sospensione che c'è stata tra la prima e la seconda parte di questa udienza, nell'intento di prendere un caffè è stato aggredito alle spalle, lo stesso è finito a terra, poi lui non si è sentito molto bene, è stato chiamato il 118 ed è stato trasportato all'ospedale di Pescara, al rientro il suo avvocato, l'avvocato Paolo Grugnale, l'avvocato di Girolamo hanno richiesto il rinvio del processo vista l'impossibilità proprio dell'assistito ad essere presente in aula. Il gruppo Sarandrea ha accertato di questa, visto il certificato del 118, ha rinviato al 25 ottobre la seconda udienza, però ha sospeso i termini di prescrizione. C'è stata un'aggressione a un imputato, Gian Caterino, quindi il codice purtroppo parla chiaro, l'imputato non è in grado di partecipare e quindi c'è stato il rinvio dell'udienza al prossimo 25 ottobre. Siamo sicuri al 100% che l'aggressione non è stata in essere da nessun membro del comitato, perché il comitato vuole giustizia, vuole la verità, ma la vuole nelle aule del Tribunale. Nessuno qui si fa giustizia da sé. La mattinata era iniziata intorno alle 9 qui davanti con il raduno di tutti i familiari del comitato vittime di Rigopiano perché si attendevano molto di più. Perché non è possibile fissare una data ogni mese e noi dobbiamo lavorare sotto, devono lavorare sotto tutti i giorni se è possibile, anche fino alle 5, 5 e mezza, alle 6 di sera. Questo è fondamentale per capire, fino in fondo non possiamo aspettare un mese, un mese e mezzo, non è fattibile un maxi processo come questo, non possiamo come la prima udienza preliminare finire la mezzogiorno e mezza, due ore e mezza, che un'ora e mezza è passata solo per l'appello di tutte le costituzioni di parte civile ed è stato, l'altra ora non si è parlato di nulla. I capi di imputazione per questa seconda udienza preliminare davanti al gruppo erano disastro colposo, lessioni plurimocolpose, omicidio plurimocolposo, falso ideologico, abuso edilizio, commissione d'atto di ufficio e abusi in atto d'ufficio, oltre alla gestione dell'emergenza, l'attivazione dei soccorsi e la mancata realizzazione della carta delle valanghe. E proprio su questo, perché poi il 16 ottobre ci sarà un'altra udienza, quella per quanto riguarda il depistaggio delle informazioni, andiamo a sentire il passaggio che sembra lo stesso Tanda ha rilasciato ai nostri microfoni. È data importante, a mio giudizio, ancora peggio di quella attuale, perché se tu non ci hai messo la volontarietà nell'uccidere 29 persone, hai messo la volontarietà nell'occultare le tue colpe, quindi sei a conoscenza che hai sbagliato, ma nello stesso tempo, visto il tuo potere, la tua posizione, puoi anche nasconderlo. Qui non si parla di comuni cittadini, si parla di persone che avevano delle carte in mano e hanno nascosto questi documenti importanti. A metà mattinata, intorno alle 10.30, c'è stata la sospensione della seconda udienza perché l'aula numero 1, quella dedicata al processo di Rigopiano, era impegnata. Ma non riesco a comprendere con un processo, con 29 vittime, 150 avvocati, come si possa non tenere un'aula a disposizione. Sinceramente è una cosa che non comprende, non ho fatti di maxi processi nella mia vita, ho soltanto 40 anni di professione e questa la trovo una cosa per me incredibile. Quest'udienza preliminare si è costituita a parte civile l'INAIL e questo non è andato giù ad alcuni familiari, tra cui Francesco D'Angelo, il fratello di Gabriele, che nell'hotel Rigopiano era al lavoro e per questo non gli è stata riconosciuta nessuna indennità. Sì, come mio fratello e come tante altre famiglie, se ci mettiamo a contare sulle punte dell'inità, la maggior parte dei dipendenti dell'hotel Rigopiano non è stata riconosciuta alla morte sul lavoro, quindi è vergognoso che si costituisce parte civile, è proprio vergognoso. Io chiedo che doveva essere riconosciuto a tutti quanti, perché presentarsi dopo tre giorni dall'evento a casa e vedere se Gabriele era parte del nucleo familiare, se dava degli aiuti, nella confusione più totale perché siamo ritrovati in una cosa più grande di noi è inverosimile. E allora andiamo a vedere i titoli nazionali, torneremo poi alle notizie della nostra regione nella seconda parte della nostra rassegna stampa. Il Corriere della Sera apre con i dubbi di Conte sul fine vita, sia all'obiezione di coscienza per i medici, dice il Presidente del Consiglio, non credo nel diritto alla morte. Migranti, intesa tra Democratici e Movimento 5 Stelle sullo Youth Culture, chi studia sarà italiano. Salvini attacca, poveri noi. Poi andiamo a vedere le altre notizie, sondaggio, il governo sale il gradimento, effetto scissione PD al 19,5%, i 5 Stelle in calo di tre punti, dice il sondaggista Nando Pagnoncelli. L'intervista a Davide Casaleggio, Di Maio, il leader e lui, nascerà il team del futuro, questo per quanto riguarda i movimenti all'interno del Movimento 5 Stelle. A proposito, il vincolo di mandato richiamato proprio dal Ministro degli Esteri, Di Maio, gli eletti e le idee confuse, l'articolo di Ernesto Galli della loggia. Poi il clima, un'onda verde nelle piazze, ragazzi in festa, siamo più di un milione, questo il titolo che riguarda il Friday for Future e poi il decreto ambiente, bonus per bus e metro, scusate, a chi rottamerà l'auto. Andiamo su Repubblica, oltre un milione in piazza, che forza ragazzi, chiaramente il titolo è sugli scioperi per il clima, un venerdì storico per la battaglia dei giovani in difesa della terra, partecipazione record in 180 città. Greta posta le foto dei cortei italiani, una gioia incredibile, dossier sulle risposte negate dalla politica. Andiamo a vedere sulla stampa l'onda verde dei ragazzi, un milione nelle piazze, ma adesso ascoltateci, ecotasse ciclabili e più differenziata le principali richieste sottoposte alla politica. Analisi della protesta, ecco il primo movimento per il pianeta, il decreto clima, niente incentivi sui prodotti sfusi e bonus trasporti, questi i provvedimenti immediati nel nostro paese. Il reportage dall'Afghanistan, guerra afghana senza la Nato contro i talebani, è l'articolo di Francesco Semprini. Andiamo adesso su Avvenire, verde integrale, il titolo scelto dal quotidiano cattolico, nelle nostre piazze in tutto il mondo, dei ragazzi in marcia per il pianeta. Greta, ad avvenire, gli ho visti all'ONU, i leader non ammettono il fallimento, la mobilitazione di fronte al mutamento climatico a Venezia, l'allarme per la crescita dei mari. Poi la nuova Italia dell'inclusione, si rilancia allo Ius Culture, Caritas Migrantes, stranieri più regolari e integrati, Movimento 5 Stelle e PD aprono sulla cittadinanza. Poi la questione suicidi assistito dopo la sentenza della consulta, Conte, non esiste il diritto alla morte, un no dalla CGL. Passiamo adesso al manifesto, il titolo che richiama agli anni 70, autunno caldo, siamo un milione, l'onda verde invade l'Italia da nord a sud in difesa del clima, in 200 mila a Roma, altrettanti a Milano, la protesta globale dei giovani dei Fridays for Future si estende in tutto il mondo e ora chiede impegni concreti alla politica. È stato un nuovo 68 nella riflessione di Norma Rangeri, vedremo se queste proteste avranno la portata di quelle del 68 da parte degli studenti. Andiamo adesso sulle 24 ore, bonus fiscali, sconti per 23 miliardi, solo se tracciabili. Verso la manovra il tesoro studia la stretta su spese sanitarie e compensi per le badanti. Nel mirino le decurtazioni delle spese per istruzione e attività sportiva dei figli. Piano per la carta unica, tessera sanitaria, documento di identità e di pagamento. queste alcune delle misure contenute nel documento che aggiorna il DEF. Poi, conte rimodulazioni IVA non aumenti, partecipate almeno 34% di spesa al sud. Il Premier, la flessibilità dell'Unione Europea sui conti, destinata a mezzogiorno e svolta verde. Andiamo a vedere poi il messaggero, il titolo di apertura, sconti aumenti il caso IVA, il piano, riduzioni per chiusa la carta, gravi per il contante, conte imposta da modulare, gentiloni, applicheremo la piena flessibilità, decreto green, rottamazione, incentivi ridotti. Tasse più alte, l'effetto boomerang della lotta all'evasione, la riflessione di Luca Ricolfi. Poi, fine vita, il Premier, il medico può dire no, cittadinanza dopo il ciclo di studi, intesa Movimento 5 Stelle PD sullo Youth Culture. Andiamo avanti, calcio e antirazzismo, la Roma scuote la Lega, fate la vostra parte. Appello della società dopo l'esclusione del tifoso che ha insultato Juan Jesus, la replica, siamo pronti. E poi, clima, lo strano sciopero, piazze piene, effetto greta, gli organizzatori in Italia, siamo un milione, tra Ampi e Cobas, ragazzi in corteo con mamma, papà e vecchi arnesi. Ci spostiamo sul mattino sud, Conte prepara un piano straordinario, abbiamo già visto gli investimenti pubblici annunciati dal Presidente del Consiglio, effetto greta, i campani, la terra dei fuochi, la nostra Amazzonia, il titolo l'onda verde, clima, un milione di studenti in piazza, il governo, corsi di ecologia nelle scuole. Adesso andiamo a vedere il fatto quotidiano, Forza Italia Viva, questa è una crasi fra Forza Italia e Italia Viva che da tempo circola anche sui social, Renzi uguale Berlusconi, difende Silvio dall'inchiesta sulle stragi di cui non si sa nulla, attacca i PM di Firenze che indagano pure sui suoi, rilancia la fake news sul papà assolto, ma è prescritto, scusate sul papà assolto, ma è prescritto. Poi andiamo a vedere le altre notizie, su Marte Vacci Tu, le 200 piazze degli studenti green, oltre un milione, le scuole italiane aderiscono in massa lo sciopero per il clima. Per il governo il nemico e il contante, siamo sul libero, lotta dura al denaro, sconti e promesse di rimborsi a chi farà acquisti con la carta di credito, mentre chi utilizza banconote rischia di pagare più IVA e di perdere agevolazioni fiscali, questa è una rapina senza mezzi termini libero. Poi nel taglio alto, studenti ci avete rotto i polmoni, automobilisti ci avete rotto i maroni. Un milione di ragazzi in piazza per il clima, disagi ovunque. Questo è l'articolo di Filippo Facci. Poi uccisi in India e Nigeria, cara Greta, sono loro i bimbi senza sogni. Andiamo a vedere poi la verità. Il primo sciopero benedetto dal potere hanno usato migliaia di ragazzi per giustificare le tasse verdi. Una volta a scuola si protestava per ribellarsi a qualcuno, ieri il governo e molti professori hanno spinto gli studenti a scendere in piazza, obiettivo spegnere il cervello e accettare qualunque fesseria green, secondo la verità del giornale di Belpietro. Poi a centropagina la foto del ministro Bellanova dà un lavoro all'ex responsabile dei social di Renzi. Andiamo a vedere anche il tempo. Quanti avvoltoi sui ragazzi di Greta. Ieri mattina milioni di giovani hanno sfilato a Roma e in tutto il mondo per salvare la terra. L'unica nota stonata sono i politici che lisciano il pelo. Erano loro ad avere fatto i danni. Poi andiamo sul secolo XIX. Il titolo di apertura la terra siamo noi, o chiaramente titolo sulla manifestazione per il clima. Ora ci spostiamo invece sui quotidiani sportivi nazionali. Andiamo a vedere, l'avete già vista, la gazzetta dello sport. Il titolo di apertura Giamburrasca. Tre sconfitte in cinque giornate. Fiorentina, domani e Genova sono già decisive. Pioggia di critiche su Giampaolo. Il Milan lo conferma, ma si gioca tutto. In sette giorni serve una svolta per il tecnico giuliese. Poi nel taglio alto, Mossa Juve su Tonali. Primo contatto col Brescia nel mirino. C'è anche Zagnolo. Sarri si affida ancora a Buffon. CR7 arrabbiato, ha fame di gol. Una partita alle 15 contro la Spal all'Allianz Stadium. Poi alle 18 a Marassi contro la Samp. Conte cerca un Inter 6 su 6 ed è pronto a lanciare Sanchez. Poi il ciclismo. L'oro di Battistella arriva con la VAR. Trionfo pure nell'Under 23. Prove libere nel GP di Russia. Ferrari per il poker. Leclerc è lanciato. Va sempre meglio. Poi andiamo a vedere nel taglio basso lo Sport. E questo sorregge il rivale fino al traguardo. Giaco Tortu Super 100 storica semifinale ai mondiali di atletica a Doha. Andiamo sul Corriere dello Sport. Conte alla rovescia. Juve spallore 15. San Pinter alle 18. Prove di avvicinamento al derby d'Italia. In mezzo c'è la Champions. Conte scommette su Sanchez. Sanri vuole Ronaldo al top. Intanto affilano le armi. Rivali da sempre. Tra 8 giorni ci sarà questa super sfida al vertice della classifica del campionato. Razzismo. I cori di massa. Gli insulti a pianici opera del 90% dei 4.700 tifosi della curva bresciana ma nessuno ha fermato la partita. Il giudice stop con la condizionale. Torino. D'aspo di 10 anni ai capi ultra. Per il Milan. Giampaolo incassa la fiducia. Maldini spinge per dargli tempo. Solo un crollo con la Fiorentina sarebbe fatale. Boban perplesso. Il Napoli. Una diga senza culibali. Ancelotti studia nuove soluzioni per la difesa. Andiamo a vedere poi tutto sport. E concludiamo questa prima parte di rassegna stampa. Esclusivo. Inter Juve sfida tutto campo. Un altro stadio. Un altro CR7. Mentre i nerazzurri sfondano il muro dei 400 milioni nei ricavi. Bianconeri progettano un nuovo impianto e nuovi colpi alla Ronaldo. Alle 15 con la Spar. Sarri. Basta. False partenze. Conte vuole ancora di più. Alle 18 la Samp. Nella storia del club. Alti e bassi da eliminare. Fuori le unghie. Dice il tecnico. Poi l'Atalanta. Zapata. La Dea. Mi ha stregato. Intervista al Bomber. I percassi. I tifosi. Gasp. Qui sono felice. Nel taglio alto. Pulici. In Corona. Belotti. L'icona del Toro. Contento che sia accostato a me. Per gol e valori. Belotti. Che è stato autore della rimonta contro il Milan nell'ultima gara. Poi nel taglio basso. La Formula 1. Leclerc. Associ. Fa subito paura. La Ferrari. Detta legge. Nelle libere. in Russia. Ciclismo. Oro under 23. Battistella. Il mondiale arriva con il VAR. Per il basket. Torino. Che grinta. E in finale di Supercoppa. Facciamo un break. Andiamo a vedere le previsioni del tempo per le prossime ore. Poi torniamo con la seconda parte della nostra rassegna stampa per le pagine interne dei quotidiani abruzzesi. Vi aspetto. Di nuovo insieme per la seconda parte della nostra rassegna stampa. Pagina interna dei quotidiani abruzzesi. In primo piano sul centro. La statistica positiva. Idealizzati in calo per la prima volta in regione. Il numero scende sotto quota mille. Così, almeno dice uno studio abruzzese, che sarà svelato al congresso mondiale. Sevel, Marsiglio e Febbo in visita allo stabilimento in Val di Sangro. E poi Visco parla al premio De Cecco. A Lanciano la giornata clou dedicata all'economista scomparso tre anni fa. Andiamo avanti sempre sul centro. Rese di conti nella Lega. Lira di Bellachioma contro Fioretti. La nomina della compagna dell'assessore Scatena, il leader regionale che non ne sapeva nulla. Il PD rende pubblico il caso. Ancora, Consorzio Industriale, Chieti Pescara, Spoil System, i tre liquidatori esautorati diffidano la regione. Nel taglio basso, la decisione del Consiglio di Stato caccia a nuovo stop in Abruzzo. I giudici vietano di sparare nelle aree di ripopolamento riaperte. Andiamo a vedere la pagina Abruzzo del messaggero. Torniamo alla politica stravolte. Le regole si rischia la deriva. Tre giorni per approvare il referendum. Il centrosinistra, uno sforzo inutile in Abruzzo superato da ben cinque regioni. Chi voleva arrivare primo, ora e ultimo, dicono i rappresentanti dell'opposizione del Partito Democratico. Esulta anche il Movimento 5 Stelle che ha permesso di ritardare in modo significativo l'iter della richiesta in commissione. Prima di andare a vedere il servizio, nomina per la moglie dell'assessore Fioretti, Lega in Subbuglio. Il caso finisce a Salvini, che dovrebbe arrivare in Abruzzo domani sera. Noi adesso andiamo a vedere insieme il servizio che riguarda proprio invece l'iter di approvazione della richiesta di referendum. È stata una vittoria di Pirro, quella del centrodestra abruzzese, che dopo due giorni di braccio di ferro con l'opposizione a tardanotte è riuscito a far approvare la richiesta di referendum abrogativo della quota proporzionale della legge elettorale. In realtà la vittoria reale è quella dell'opposizione PD-Movimento 5 Stelle, riusciti a rallentare l'iter del Consiglio regionale, quel tanto che è bastato a rendere l'Abruzzo sostanzialmente ininfluente ai fini del dettato costituzionale, che prevede la richiesta sia sottoscritta da cinque consigli regionali, nel caso di specie Lombardia, Veneto, Friuli, Sardegna e Piemonte. PD e Movimento 5 Stelle attaccano il presidente Marsilio, ostaggio secondo i consiglieri di minoranza dei diktat della Lega. Il referendum abrogativo infatti è uno dei nuovi cavalli di battaglia del leader del Carroccio Salvini, passato all'opposizione, preoccupato da un possibile ritorno del proporzionale puro. Abbiamo assistito insomma a manifestarsi, diciamo, della incapacità di questa maggioranza di governare Regione Abruzzo, di organizzare i lavori del Consiglio regionale, di organizzare i lavori nelle commissioni, di non avere nessuna risposta a tutti i provvedimenti che sono stati portati in commissione in questi giorni. Volevano arrivare i primi con l'approvazione del quesito, sono arrivati i ultimi, grazie al lavoro di opposizione del centro-sinistra, del Movimento 5 Stelle, grazie alla denuncia forte che abbiamo fatto nel corso di tre giorni di lavoro, di una sistematica violazione delle norme del nostro regolamento, del nostro statuto, di un stravolgimento dei più elementari principi di programmazione dei lavori. Per fare che cosa? Per approvare un quesito che io sono fiducioso, non sarà ammesso, perché contiene disposizioni contrari ai principi di eguaglianza del voto, di rappresentatività, i principi che la Corte Costituzionale ha più volte ribadito. Il ritardo nell'approvazione della richiesta di referendum, ostacolato da bene 2.800 emendamenti, rischia di avere ripercussione all'interno del carroccio. Domenica Salvini dovrebbe piombare in Abruzzo per incontrare gli elettori e per fare il punto della situazione con i suoi. Da Fratelli d'Italia si predica calma, con Guerino Testa che risponde così agli strali dell'opposizione rispetto ad una giunta che starebbe tralasciando i problemi seri degli abruzzesi. Il centro-destra è ben consapevole che la sanità, le attività produttive, il sociale, l'edilizia abitativa e tanto altro sono le vere priorità della nostra regione, specialmente dopo 5 anni di buio assoluto dove molte di queste priorità sono state assolutamente inascoltate e in evase. Ma noi sappiamo e siamo consapevoli che una nuova legge elettorale che porta a un maggioritario puro sia anche questa una cosa molto importante per l'Abruzzo e per gli abruzzesi. Passiamo adesso alla pagina Abruzzo sul centro. Festa nei Borghi Autentici, ecco i paesi da riscoprire. Domani la quarta giornata della manifestazione in sé comuni abruzzesi da Capistrello, Barzorano e Villetta Barrea a Fallo, Sante Marie e Scurcola. Poi la pagina di Pescara con l'apertura dedicata al processo Rigopiano. La mamma di Feniello picchia l'imputato, salta all'udienza. Gian Caterino, ex sindaco di Farindole, fratello di una delle vittime, è preso a pugni nel bar del tribunale. Ha firmato la condanna a morte di mio figlio. Il procuratore dice una vicenda complessa, serve serenità. La replica di Gian Caterino, vorrei essere libero di partecipare ai lavori nell'aula del tribunale di Pescara. Mandati al bar per liberare l'aula, sotto accusa la sospensione di un'ora per un alto processo, l'avvocato Reboa senza quella pausa forzata non sarebbe successo. Il comitato vittime si dissocia, per la giustizia c'è la legge. Abbiamo ascoltato tutto nel servizio di Stefano Recanati. Andiamo a vedere anche l'apertura della pagina di Pescara sul messaggero. Imputato, aggredito, l'udienza slitta, il giorno della rabbia, il processo per la tragedia di Rigopiano. L'ex sindaco di Farindole ha preso a pugni dalla madre di Stefano Feniello. Lo scontro al bar durante una pausa. Massimiliano Gian Caterino, soccorso dal 118, medicato in ospedale per un trauma cranico. Hai condannato a morte mio figlio, dura condanna del procuratore Serpi. Violenze inaccettabili, abbiamo bisogno di un clima sereno. Beveva allegro un caffè, l'ho colpito. Questo è il racconto della madre di Feniello. I parenti delle vittime comprendono il gesto, ma non lo giustificano. L'avvocato Reboa ha un errore, lo stop. Troppa tensione. Poi, nel taglio basso, da Quino, tempi più veloci per pagare le tasse comunali. Questo riguarda il neodirettore generale di Adriatica e Risorse a Pescara. Restiamo sul messaggero. 4 mila in corteo onda verde su Pescara. Numeroso, pacifico, ironico. Il successo del corteo del movimento Friday for Future. L'organizzazione dei commercianti. Dietro ai ragazzi sfilano anche bambini e famiglie. Andiamo a vedere adesso questa notizia anche sul quotidiano Il Centro. Lo sciopero globale anche a Pescara in Piazza per il Clima con 4 mila studenti. Non solo slogan e striscioni, ma anche proposte concrete. A cominciare dalla raccolta differenziata nelle scuole. Le richieste del movimento cittadino. Piste ciclabili ben collegate. Bus capillari e gratuiti. Andiamo avanti con il centro. Vertice con Assessore e Consiglieri. Nuova Pescara alla Lega dallo stop. Troppi dubbi su quel progetto. Riunione con gli amministratori dei tre comuni. Convocata da De Renzi. Se presenti Bagnai e Landini. Perplessità sulla fusione anche da Pescara. Il carroccio rischia di spaccare il fronte del centro-destra. Ancora a Mense scontro sul panino da casa. Il presidente del comitato Cretarola. Pronto il ricorso per far revocare il divieto. Andiamo avanti. Dopo l'aggressione a Rancitelli. L'inviato di Striscia. Ecco cosa è successo. Il racconto di Vittorio Brumotti sui social. Prima i selfie con noi. Poi di colpo il rione ci si è scagliato contro. Ma vi voglio bene. Ferro di cavallo. La versione dei residenti. Le donne del rione. Basta telecamere. Dateci fogne e servizi. L'episodio di giovedì. Nessuno ha toccato nessuno. Ci ha fatto innervosire l'invadenza. Questo è il racconto dei residenti. L'otta all'elettrosmog. Antenne riparte la protesta. Fermate i nuovi impianti. In commissione alla richiesta dei cittadini di vietare l'installazione dei sistemi 5G. Rapposelli. Serve una sospensione cautelativa. Il Movimento 5 Stelle. Basta con il Far West. I comitati e il WWF lanciano l'allarme sulla nuova tecnologia. È pericolosa l'esposizione della popolazione alle radiazioni. Aumenterà in modo massiccio. Ieri c'è stata anche la riunione per le aree di risulta. Masci chiede modifiche al vecchio piano di riqualificazione. Torniamo sul messaggero. Aree di risulta. Avanti con modifiche. Progetto più pubblico e meno privato. E' il titolo proprio sulla riunione che c'è stata ieri. Torniamo invece sul caso Brumotti. Truppa aggredita. Il video al setaccio. All'esame dei carabinieri. Le immagini girate con i telefonini e telecamere durante la sollevazione contro gli inviati di striscia. Vittorio Brumotti rassicura i fan con un video. Fino a pochi minuti prima volevano selfie. Poi si sono scagliati contro di noi. Anche la carta dell'arte per il riscatto di Rancitelli. Canti e riflessioni con Don Max per i 50 anni degli angeli custodi. Un grave errore. Chiudere la scuola, sottolinea il parroco. Poi da Conad 280 mila pasti per il banco alimentare. Ieri c'è stata la cerimonia simbolica della consegna di questo assegno. Poi ancora nel taglio basso. Aspoltore le tasse più leggere. Di Lorito frena sulla fusione. Un piano per le nuvantenne. Stop alle installazioni e la questione elettrosmog. Torniamo adesso invece sul centro e completiamo con le pagine di Montesilvano e della provincia. Vestina, emergenza. Ancora incidenti. Viabilità e sicurezza. Due scontri dopo l'investimento mortale di Di Clemente. Mozione del PD. Strade in abbandono. Subito interventi. Poi frane, strade e scuole. L'opposizione incontra Zaffiri, presidente della provincia. I consiglieri di insieme per Città Sant'Angelo rassicurati dal presidente sulle opere urgenti in corso. Andiamo nella pagina successiva. Terzo depuratore dell'ACA. I lavori arriveranno entro il 2020. A Francavilla l'azienda acquedottistica ha chiesto al Genio Civile una proroga per le integrazioni e i chiarimenti richiesti. L'opera finanziata con 4 milioni. Addio a Bruno Zulli. In tanti lo ricordano con le sue poesie. Notizia che arriva ancora da Francavilla al mare. Andiamo nella pagina invece della Val Pescara. Pianella capitale della protezione civile. Fino a domani l'esercitazione multidisciplinare. Castrum 2019 del Modavi. Campo base allo stadio e prove in vari territori. Busi, lavori al casello, adeguare i segnali sono le richieste per una maggiore sicurezza. E nel taglio basso Penne, ecco la mozione per il clima. Studenti in piazza, iniziativa di Pennevale. Il Consiglio dichiari l'emergenza. Restiamo sul quotidiano. Il centro, andiamo adesso a vedere le pagine di Chieti. Città invasa per un giorno. In 20 mila scoprono l'università. Il rettore, gli studenti in centro. La notte dei ricercatori è un successo. Caputi annuncia a breve l'inaugurazione di Palazzo Veneziani. Ospiterà la sede dell'Ateneo Telematico. I corsi. L'Ateneo mette in mostra le sue eccellenze nella notte dei ricercatori. Poi incendio in via Baroncini. Sette auto in fiamme. Paura nei palazzi. Il rogo di vampa nella notte. Il fuoco parte da una Jeep Renegade. Si propaga le altre macchine parcheggiate in strada. A Lanciano schianto con la Pecar. Muore dopo sette giorni. D'Antonio, 87 anni, era ricoverato a Pescara. Lo scontro per una mancata precedenza. Nel taglio basso spunta la nuova tassa sulle aziende. Vasto, raffica di cartelle da parte del consorzio di bonifica. Scoppia la protesta. Andiamo a vedere le pagine di Chieti sul messaggero. Ritorniamo al rogo di via Baroncini. Rogo nella notte. Sette auto distrutte intorno a Luna. Boati a ripetizione. Il bagliore delle fiamme. Hanno svegliato i residenti della strada. Sembravano petardi. L'incendio sviluppatosi da una Jeep. si è steso rapidamente le altre macchine. Posteggiate nei paraggi. Nessuna traccia di dolo. La vittoria. Trasparenza e stop al 5G. Nuovo piano antenne. Al consiglio varato dal Consiglio Comunale di Chieti. Poi nel taglio basso. Il palasport torna agibile per le società. Nella pagina successiva. Valagro investe in difesa dell'ambiente. Nei dati 2019. spicca il moderno impianto di cogenerazione che consente di abbattere le emissioni di gas ad effetto serra. Evidenziate le iniziative di welfare adottate dall'azienda per il benessere dei dipendenti. Come la Mensa Plastic Free. Pubblicato sul web. Il bilancio socioambientale. Netto miglioramento dell'efficienza energetica. E poi il governatore Marsilio, abbiamo già visto, con Febbo in visita alla Sevel. Restiamo sul messaggero. Le pagine di Teramo. Nuove case per gli sfollati. L'assegnazione nel caos. Alloggi costruiti e poi venduti sul mercato. Procedure contraddittorie e cantieri fermi. Il sindaco D'Alberto blocca le pratiche. Ora ritengo necessario vederci chiaro. Altre difficoltà per le vittime del sisma ancora ospitate in Residence Hotel. La sistemazione definitiva è un miraggio. PD di Stefano. Commissario Bacchetta subito minosse dopo la rivoluzione all'interno del Partito Democratico Teramano. Nel taglio basso. Sciopero per il clima. Sfilano 2000 studenti. E poi il processo albanese ucciso nell'auto. Il giallo del colpo di pistola. Nella pagina successiva, quella della provincia. Pista di ghiaccio e ruota panoramica. Giulianova, l'assessore al turismo di Carlo. Ci proveremo ad avere queste attrazioni per il periodo di Natale. Assieme alla banda Bardot. 20 giorni di palatende in Piazza del Mare. Con eventi dedicati al divertimento. Alla scuola, ai giovani e naturalmente con artisti. Poi spaccati in farmacia. Il bottino è modesto a Corropoli. Solo 300 euro. Ancora la morte di Giulia. Il caso si può riaprire in Val Vibrata. Secondo il legale della famiglia di Sabatino. Ci sarebbe un testimone oculare. In Val Vibrata. Quattro sindaci disertano l'unione. Sono quelli di centrosinistra. Contro la gestione di Pietrangelo Panichi. Nei neopresidente. A Campli. Cave Canem ha raggiunto l'accordo in Diocesi. Andiamo sul centro. Pagine di Teramo. Mazzini bis. La battaglia. Nuovo ospedale. Il sindaco vuole un consiglio insieme all'Aquila. D'Alberto critica duramente la regione che non ha dato indicazioni certe sui presidi di secondo livello. Prima della localizzazione. E questa la priorità, dice il sindaco di Teramo. Inviteremo l'assessore Verì e il ministro Speranza. All'università di Teramo. Laurea in giurisprudenza per il senatore D'Alfonso. E la sua terza laurea. Andiamo avanti. Silvi. I servizi comunali tornano nella vecchia sede. Conclusi i lavori di ristrutturazione del palazzo municipale in piazza Marconi. Il sindaco Scordella. Abbiamo colto l'occasione per razionalizzare gli spazi. Pineto. Salvarono un anziano in mare. Incomio alla Bagnina e al Poliziotto. Andiamo adesso a vedere anche la città. Il quotidiano della provincia di Teramo. Torniamo nel capoluogo aprutino. Ecco un'idea su come sarà il progetto di Bellomo per il teatro romano. Conferenza dei servizi fissata al 14 ottobre. Intanto l'architetto svela alcune modifiche all'idea preliminare. Qui vedete anche un rendering del preliminare e del progetto forse definitivo e le sue modifiche. Proseguiamo adesso sempre sulla città. Andiamo a vedere le altre notizie. Aperitivo con l'Azu tra gli scavi archeologici. Giovedì alla Madonna delle Grazie visita agli scavi. Anteprima dei progetti. Buon cibo della CIA e musica del Braga. Proseguiamo. La sanità che non va. Priorità alle liste d'attesa. Non ai project degli ospedali. Per la CGL i problemi da affrontare con l'assistenza territoriale. La rete ospedaliera, le assunzioni e le spese. Poi l'ospedale nuovo resti a Villa Mosca. La consigliera di Timoteo cambia idea e chiede al sindaco D'Alberto di fare chiarezza. Anche se entrambi hanno già votato l'11 di luglio del 2017. Verì spiega i motivi della mancata discussione sul piano riordino degli ospedali. Della rete ospedaliera si discuterà a fine novembre. Le questioni del PD Terramano. Inagibile con la segreteria Minosse. L'obiettivo del commissario Di Stefano è portare il partito al congresso nel più breve tempo possibile. La lettera d'addio. Un po' di miele dopo i sassi. Minosse chiude la porta del PD. Che passa Italia viva. Terramo sciopera per il futuro del pianeta. Migliaia di partecipanti, soprattutto giovani, al Friday for Future contro il cambiamento climatico. Martedì e giovedì disagia lo svincolo di cartecchio per controlli. Andiamo avanti. Il nuovo comandante della Guardia di Finanza. Il generale D'Alfonso a Terramo per il passaggio di consegne tra i colonnelli Balsano e Lucignano. Poi a Castelli territorio abbandonato dalla provincia. La denuncia del sindaco Rinaldo Seca sulle manutenzioni e sugli smottamenti lungo la strada provinciale 37 per strada dei parchi. Traforo chiuso di notte per i lavori di manutenzione. Andiamo avanti. Salvati i posti di lavoro alla cave Canem. Siglato l'accordo transattivo tra l'impresa di Campi e l'istituto diocesano per il sostentamento del clero. La vicenda delle somme arretrate dovute all'istituto aveva preoccupato anche il vescovo. Andiamo avanti. Unione dei Comuni attacco frontale a Panichi. I sindaci del centro-sinistra criticano il Presidente su deleghe non conferite e scelte non condivise. Poi a Tortoreto 200 mila Euro dalla tassa di soggiorno. E ancora Giulianova ha cambiato il progetto del polo scolastico. Niente asilo nel campus di Via Cerulli. La Giunta preferisce le elementari. A Roseto. Bagarre in consiglio su cimiteri e mercato. Botta e risposta tra Pavone e Tacchetti. L'opposizione torna a chiedere un ripensamento sulle bancarelle. Vannucci. L'assessore ha ribadito la volontà di spostare il mercato in centro per questioni legate alla sicurezza. Torniamo sul quotidiano Il Centro. Andiamo nelle pagine dell'Aquila. Decennale festival degli incontri. Ecco il documento. Il Comune sapeva. Spunta la lettera firmata dalla Segreteria Generale. È giallo della doppia data. Maggio oppure agosto. Ma il programma c'è. La proposta. Slittamento al 2020. Biondi. Liquidiamo Barbagallo. Il festival lo facciamo da soli. Pagina successiva. L'indagine è sciocchi in alto sangro. Giovane animatrice stuprata in albergo. Arrestato il 28enne capovillaggio. La donna medicata in ospedale. L'uomo si difende dicendo che era un rapporto consensiente. Poi a pacentro il segretario di Stato degli Stati Uniti. Mike Pompeo alla scoperta delle sue origini visita la casa dei bisnonni in programma ad ottobre. Andiamo a vedere le pagine dell'Aquila anche sul messaggero. Biondi. Via la Barbagallo. Il festival con gli aquilani. Evento del decennale. Il sindaco attacca. Liquidiamo la direttrice. Ripartiamo il primo cittadino smascherato. Il Mibact sul programma clamoroso errore di date. Poi l'indagine sotto servizi. Scarla. Nessun danno alla torre civica. Nel taglio basso risarcito con un milione per la legionella. Muore suicida. Andiamo avanti. I super cervelli in rosa. Il futuro è qui. L'economista fa già nell'astrofisica Branchesi a Sharper Ateneo GSSI Laboratori. L'Aquila è un punto di riferimento. 50 eventi. Il centro storico Laboratorio è c'era aperto per ribadire la vocazione della città. A vocazione appunto a città della conoscenza e della ricerca. Dieci anni dopo il sisma tornano tutte le Caritas l'incontro all'Aquila. Poi le altre notizie. Architetti illuminano i palazzi. Il verde metterà in risaldo i lavori già conclusi con il rosso. Quelli da iniziare. Nella pagina successiva. Giovane animatrice è violentata. Un arresto. Indagini nel lampo dei carabinieri di Castellisangro sulla denuncia per un episodio che sarebbe venuto in un albergo di Pesca Sero. La dinamica e le responsabilità sono chiare. È stato disposto subito il giudizio immediato senza passare per l'udienza preliminare. Siamo così arrivati allo sport. Parliamo chiaramente della partita del Pescara disputata ieri sera all'Adriatico Cornacchia. Partiamo dall'abruzzo sport del messaggero Pescara. E nottefondo una doppietta del grande ex Benali causa la sconfitta interna con il Crotone all'Adriatico. Chiude crociata per il 3-0 finale. Nel primo tempo gol annullato a Galano per fuorigioco ma è stata una disfatta completa. Qui vedete la foto anche dei giocatori del Pescara che a fine gara sono andati a colloquio sotto la curva Nord Benali. commosso dall'applauso pescarese così l'uomo decisivo per questa partita. Nel taglio basso il maxi turnover non funziona. Zauri mi assumo le responsabilità. Andiamo a vedere anche il titolo e la doppia pagina che il centro dedica alla sfida di ieri sera. Una notte da incubo figuraccia del Pescara senza anima e priva di gioco crolla sotto i colpi di Benali. Il grande ex trascina il Crotone che impartisce una lezione biancazzurri. Solo Macin regge il confronto. Squadra sempre in balia degli avversari. Un punto in tre partite per il Delfino che resta a guardare. Non da cenni di reazione all'orizzonte. C'è la sfida difficile. Il derby con Lascoli. Le reazioni. Bettella niente di buono. Ora serve compattezza. I leader restano in silenzio. Borrelli felice per la prima. E noi adesso andiamo a vedere intanto il servizio della partita con Paolo Renzetti. Seconda sconfitta consecutiva per il Pescara che con un punto nelle ultime tre gare entra nel tunnel della prima crisi stagionale. Passi il risultato ma ancora una volta a preoccupare. E' stata la prova ancora negativa sul piano del gioco di Fiorillo e compagni. Apparsi anche psicologicamente fragili. Per il Crotone è successo meritato con Stroppa che batte per la prima volta la sua ex squadra. In difesa si rivedono Del Grosso e Campagnaro assieme a Zappa e Bettella. Una retroguardia completamente nuova. In attacco Maniero gioca dal primo minuto per Brunori. Rispetto a Cittadella ci sono ben sette novità. Tornano da avversari all'Adriatico Benali e Mazzotta. Clima mite e 6.000 spettatori nel match diretto da Prontera di Bologna. In apertura al sesto Messias di testa chiama Fiorillo al salvataggio in angolo. Sugli sviluppi del corner Simi si divora il gol dell'1-0. Approccio non brillantissimo per i biancazzuri anche se al tredicesimo Macino lancia Maniero che tutto solo davanti a Cordaz si fa respingere. La conclusione con Galano che poi mette in rete ma in posizione di fuorigioco e con il fischietto Felsinio che annulla su segnalazione del secondo assistente. Gara subito intensa visto che al quarto d'ora Messias dai 20 metri mette a lato di pochissimo. Al diciottesimo gli ospiti però vanno in vantaggio. Scambio stretto in area abruzzese fra Simi e Benali che con troppa facilità poi mette alle spalle di Fiorillo. Inesimo svantaggio in apertura di partita per il Delfino che rischia di crollare ma tiene botta con i calabresi che continuano ad attaccare dimostrando una grande abilità nel palleggio. E con Benali che al venticinquesimo grazie a Fiorillo che si immola e salva Biancazzurri in grave difficoltà con Castanos che però ci prova al ventottesimo mirando all'angolino con Cordaz che si rifugia in calcio d'angolo. Ci provano i padroni di casa ma quando attacca la squadra di Stroppa crea pericoli. I minuti finali di primo tempo vedono al quarantatresimo la traversa ancora del centrocampista Biancazzurri prima del doppio fischio di prontera che chiude un primo tempo di grande sofferenza per gli adriatici. La ripresa vede in campo nel Delfino di Grazia per Galano al secondo minuto uscita scriteriata del portiere ospite con il pallonetto di Cisco fuori misura. Il Pescara ci prova ma con poche idee e al dodicinquesimo sugli sviluppi di un corner Benali fa due a zero e doppietta personale per il Crotone. La gara è già in ghiaccio. Gelo invece sull'Adriatico con buio pesto per i padroni di casa e con Stroppa che manda in campo Maxi Lopez per Sini. Poco dopo al diciottesimo Benali esce dal campo fra gli applausi. Al ventiduesimo Zauri gioca la carta Brunori per Maniero. La gara sembra però segnata anche se al ventiquattresimo Macine cerca la prodezza in area pitagorica mandando il pallone sopra la traversa. La reazione del Delfino però non c'è per il Crotone. È gioco facile mantenere il doppio vantaggio e nel finale trovare il Tris al trentitresimo con Crociata. Negli ultimi minuti spazio a Borrelli ma la partita è già chiusa con il Pescara che si lecca le ferite per il secondo K.O. di fila. E allora le pagelle del Pescara ancora sul centro. Male Castanos, Fiorillo evita il peggio. Bene soltanto Macine per un tempo, per il resto tutti i biancazzurri dietro la lavagna in una notte da dimenticare. Benali intanto ringrazio i tifosi per gli applausi. L'ex fa la differenza con due gol, l'abbiamo visto. Qui ho dei bei ricordi, voglio bene alla città. Pagina successiva con la delusione di Zauri, troppo remissivi di spiace per i tifosi. L'allenatore biancazzurro mi assumo le mie responsabilità. Il cambio di Galano volevo uno più fresco. Ora ripartiamo. E allora andiamo a vedere insieme le interviste al novantunesimo. Ascoltiamo Zauri e poi il presidente Sebastiani. Allora una sconfitta lo possiamo dire con pochi attenuanti questa sera? Sì assolutamente. Non abbiamo niente di cui parlarne. Assolutamente la responsabilità è mia totalmente. Quindi mi dispiace per quanto riguarda il risultato. Dove ci vedete sotto di tre gol. Quindi c'è poco da giustificare. Dispiace comunque per i tifosi e per tutto l'ambiente. Perché chiaramente non si aspettava una sconfitta del genere. Quindi purtroppo siamo dispiaciuti. Tre partite, un solo punto all'attivo. È già una piccola crisi per il Pescara anche se siamo appena dopo sei giornate? No, il problema secondo me era un altro. Aspettarsi che le vincessimo tutte. Sicuramente lo spettacolo visto oggi non è quello che vogliamo fare. Il Pescara è una squadra giovane che ha bisogno di crescere e di fare esperienza. Purtroppo questa è abbastanza traumatica visto il risultato. Ma insomma il Pescara è una squadra che lotterà secondo me per la salvezza. Perché questo è quello che vogliamo fare. Quindi volare non basso di più, come ho sempre detto. Quindi chiaramente chi parli di altre cose non vuole bene al Pescara. Io non voglio entrare in merito dei cambi perché non faccio l'allenatore. Però è evidente che qualcosa oggi non ha funzionato. Perché se con l'Intella siamo partiti subito un pochettino avanti. Diciamo che in queste cinque partite siamo sempre partiti a rincorrere. Però poi abbiamo fatto delle buone gare. Anche a Salerno abbiamo ripreso la partita e poi abbiamo preso due gol così. Però ci sta. Sta una partita sbagliata. Mi auguro che i ragazzi si riprendano presto. Anche perché abbiamo subito una partita molto importante per tutti. Per i giocatori, per noi, per la tifoseria. Una partita sentita. E quindi bisogna metterci qualcosa in più. Parlerà con la squadra nei prossimi giorni? No, abbiamo già fatto due chiacchiere dopo la partita. Sicuramente adesso, domani, dopo domenica, quando si raduneranno, faremo due chiacchiere più approfondite. Passiamo alla Serie C adesso sul messaggero. Teramo in allarme, Bombaggi è a rischio. Lo stoccatore ha patito una forte contusione. Potrebbe saltare la trasferta di Monopoli. Tedino per ora non vuole rischiare Costa Ferrera. È straordinario, ma è arrivato all'ultimo. Andiamo a vedere anche la città. Sul Teramo, Tegola-Teramo. Bombaggi a rischio forfè. Un ematoma ad un'anca per il centrocampista. Tedino ad oggi è out. Valutiamo tre alternative. L'attaccante ha preso un colpo al ginocchio contro la Viterbese, ma dovrebbe essere della partita. Si tratta di Cianci. Il difensore Cristini è stanco dopo il filotto di gare. Se dovesse stare fuori, pronto Lotti a sostituirlo. Completiamo le pagine di sport sulla città. Teramo a spicchi. Da oggi c'è il torneo di Tolentino per il basket. E ancora basket Giulianova. La stagione inizia con il derby. Rinnovato il roster di coach Cesare Ciocca, che all'esordio se la vedrà con la Esa Energia Chieti. Torniamo adesso sul messaggero e completiamo con la Serie D. Avezzano, Via Purefanti, si fa sotto l'ex patron Paris. Ho dato e mi sono dato la scadenza del 4 ottobre con il notaio. Poi il Fuzzal, Acquessapone, debutta in casa contro Petrarca Padova. Riflettori puntati su Douglas Nicolodi. Non vedo l'ora di tornare in campo per il ciclismo. La Bastianelli, punta di diamante. Oggi ai mondiali. E' tutto per questa nostra rassegna stampa. Mattino 6 torna lunedì alle ore 8. La nostra informazione oggi come sempre alle 14, alle 19 e alle 23 con il TG6. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon fine settimana. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon fine settimana.